Domani sera alle ore 21 e 15 ritorna su Cilento Channel Comune 4.0 il programma politico condotto da Gianni Petrizzo per la regia di Andre Giaccio che approfondisce e analizza gli aspetti della politica cilentana. Ospite in questa puntata la minoranza del comune di Agropoli composta da Gisella Botticchio, Agostino Abbate e Mario Pesca. Si discuterà dell'attuale situazione politica in seno alla minoranza e alla maggioranza consigliare di elezioni amministrative 2022 e di argomenti che riguardano la città di Agropoli.